Continuare questa storia e questo percorso in una lista civica, siamo nati costruendo la lista civica e cambiando le sorti della storia della città di Pescara nel 2003 unitamente a Gianni e Maurizio, vogliamo continuare a lavorare unitamente ai cittadini, non avendo altri referenti se non i cittadini diretti e rispondere direttamente ai cittadini. Questo insieme al candidato sindaco Carlo Costantini che condivide pienamente questo percorso civico, sono certo e convinto che faremo un grande lavoro per il bene della città di Pescara, in particolare per le zone periferiche cui sono nell'abbandono più totale e hanno la necessità di rinascere e riavere lo splendore che in questi ultimi anni non hanno più avuto. Così Pier Nicola Teodoro nel presentare la sua candidatura alle elezioni comunali di Pescara con la lista civica Costantini sindaco per riportare l'attenzione verso la periferia. L'ingresso di Teodoro è un motivo di grandissimo orgoglio per me, in primo luogo voglio ricordare che nel 2019 le mie liste civiche, la lista civica Teodoro ha sfiorato il 10%, quindi oggi legittimamente possiamo ambire ad un risultato addirittura superiore. In secondo luogo la candidatura di Pier Nicola Teodoro è una risposta alla condizione di abbandono totale che in questi 5 anni hanno vissuto le periferie, non ci sono stati interventi adeguati, le strade sono distrutte da buche e da dissesti, non c'è nessuna attenzione per il decoro urbano, non ci sono spazi per l'aggregazione sociale. In buona sostanza manca tutto quello che nel corso di 15 anni di esperienza amministrativa di Pier Nicola, capo della circoscrizione di competenze, è riuscito a consegnare e a restituire ai cittadini. La sua quindi è una candidatura fondamentale perché dalla sua candidatura parte la rinascita, la riscossa dei quartieri periferici e parte soprattutto la realizzazione di un progetto che non vuole più un centro separato dagli altri quartieri, ma vuole immaginare la città come un'unica città con una distribuzione di risorse equilibrate e interrompendo i flussi di finanziamento che interessano solo il centro della città. Questo è il nostro progetto e Pier Nicola è sicuramente la persona più adeguata per dare le risposte che servono.